alessandro fusilo ma che piacere trovarti caspetta ma guarda lì come sei abbronzato complimenti rispetto a me il sole del mediterraneo vengo subito al sodo perché oggi parliamo di un argomento interessantissimo interessantissimo questo 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 strano acronimo questo questa roba che si chiama nita che cos'è allora l'acronimo naturalmente è inglese perché noi siamo degli eterni provinciali di fatto è un organismo consultivo del ministero della salute fortemente voluto dall'oms è un organismo consultivo sui vaccini l'oms richiese ai vari governi che aderiscono di istituire questi organismi consultivi diciamo scientifici tra virgolette già prima del 2020 quindi non è un prodotto della stagione pandemica chiamiamola così e è interessante leggere il decreto istitutivo del nita perché è quello che ci dà un po il la cartina di tornasole di che cos'è il nita il nita è un organismo consultivo che però ha una finalità già inserita nel senso che deve promuovere per quanto possibile la diffusione e l'utilizzazione dei vaccini non è che deve valutare se sono sicuri se sono efficaci se sono fatti bene soprattutto valutare magari uno sì uno no sembra che i vaccini siano un blocco unitario cioè che qualunque vaccino rientri in questa specie di categoria di farmaco salvifico invece magari ce ne può essere uno buono ce ne può essere uno cattivo ce ne può essere uno in fase di sperimentazione un altro che invece è consolidato bene tutto questo che sembrerebbe diciamo all'uomo della strada logico no se c'è un organismo consultivo deve fare un'analisi di questi farmaci e dire al ministero guarda caro ministro secondo noi questo va bene questo no questo magari ci vuole delle cautele o dire anche qual è indicato per quali persone anche questo è un tema no se più per i bambini più per gli anziani le persone cosiddette fragili nulla di tutto questo il nita deve promuovere la diffusione delle vaccinazioni e non solo l'altro punto essenziale della della dello scopo sociale diciamo così del nita è quello di superare la cosiddetta esitazione vaccinale cioè l'atteggiamento sano secondo me di quelli che hanno qualche dubbio che dicono fammi vedere leggiamo il bugerdino leggiamo gli studi cerchiamo di capire se funziona se non funziona se sono al rischio di contrarre una determinata malattia per cui è meglio che me lo faccio oppure non ho questo rischio e quindi me lo faccio anche qui nulla bisogna combattere l'esitazione cioè si vuole una popolazione compatta che al minimo richiamo da parte del ministero della salute va e porge il braccio per farsi per farsi vaccinare questo è il il che già ti rende un po dubbioso serve un organismo consultivo come questo o meglio serve se noi pensiamo che cos'è l'oms l'oms è di fatto l'espressione dell'industria farmaceutica è un organismo ipoteticamente indipendente sotto l'onu quindi dovrebbe essere un organismo imparziale ma di fatto non lo è perché i più grossi finanziatori sono comunque espressione delle industrie farmaceutiche pensiamo semplicemente alla galassia bill gates un po lui un po la fondazione un po la gavi sono tutte quante istituzioni più o meno riconducibili al bill gates che ha fortissimi legami con le aziende farmaceutiche e questo è l'oms è inutile nascondersi dietro un dito l'oms è la longa manus delle industrie farmaceutiche che però si ammanta di una imparzialità del fatto che un organismo internazionale che partecipano centinaia di stati in tutto il mondo e quindi vuole darsi questo belletto di imparzialità che però non merita perché fa semplicemente degli interessi industriali e il nitac si inserisce in questa in questa linea diciamo così caspita perché io ho fatto questa domanda semplice perché ultimamente pare che questo nitac sia venuto alla rivalta della cronaca per un fatto diciamo che mi ha fatto un po sorridere da un certo punto di vista ma contemporaneamente mi ha fatto molto dispiacere per due persone che che stimo e che conosco stiamo parlando di bella vita stiamo parlando di serravalle ma cosa è successo tu che lo sai meglio di me ma guarda tanto condivido la stima serravalle non lo conosco ma ho letto cose sue e condivido la stima bella vita invece lo conosco perché l'ho nominato consulente tecnico di parte insieme a Renate Holzeisen in alcuni processi che stiamo seguendo e quindi posso testimoniare dal mio punto di vista professionale che si tratta di uno studioso di altissimo livello diciamo basta basti pensare al suo cosiddetto age index all'indice di importanza degli studiosi in materia scientifica un indice index h elevatissimo molto più elevato per 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 citare qualcuno dei soliti televirologi che ci vengono propinati quotidianamente i vari bassetti burioni per gli asco eccetera eccetera sono ad anni luce in termini di importanza scientifica da un professionista come bella vita detto questo nell'ambito del nitag che è composto da 22 componenti quindi sono parecchi solo due sono stati nominati appunto nelle persone di serravalle e bellavite tra coloro che avevano espresso qualche ragione di cautela rispetto soprattutto ai vaccini covid 19 e anche ai vaccini pediatrici sono stati immediatamente dipinti come novax ricordiamo che novax secondo alcune sentenze dei tribunali italiani è un insulto un'offesa quanto tanto più nel caso di un medico che rischia pure un procedimento disciplinare se assume delle posizioni diciamo così pregiudizialmente contrarie ai vaccini a mio avviso non sono dei medici novax sono dei medici che hanno espresso delle giustificatissime ragioni di cautela soprattutto rispetto ai vaccini covid 19 e anche rispetto ai vaccini pediatrici di cui da noi in italia se ne fanno troppi e si fanno con estrema leggerezza senza 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 le dovute cautele ricordiamo tra parentesi che il vaccino contro l'epatite b che fa parte del calendario vaccinale dei bambini fu introdotto parola della cassazione a causa di una tangente che fu pagata all'inizio degli anni 90 da smith glaxo smith klein ai famigerati eh poggiolini e di lorenzo per chi si ricorda questi fatti i soldi nel puff che esatto i soldi nel puff i lingotti dentro all'armadio della credenza della cucina di questo stiamo parlando eh quindi eh diciamo su 22 medici ci sarebbero state due voci di dissenso forse o comunque di cautela diciamo così a mio avviso voci espressioni di un principio medico fondamentale che è il principio di precauzione e che va ricondotto al primo precetto ipocratico no primum non nocere per prima cosa non nuocere ai tuoi pazienti quindi si cauto quando si tratta di prescrivere un farmaco è una regola di buonsenso poi eh non è che sia chissà che cosa da un punto di vista scientifico beh che due su 22 potessero avere una posizione più cauta a me sembrava anzi un bel segnale cioè il fatto che ci fosse un minimo di pluralismo veramente poco pluralismo eh ma un minimo di pluralismo questa nomina di questi due eh medici non si sa bene se è voluta da schillaci se li ha nominati a sua insaputa perché tutta questa cosa non si è capita fatto sta che questa nomina ha scatenato l'ira funesta invece del fronte provax che è compattissimo e quindi si sono esibiti in a questo punto sì insulti gratuiti ho letto un articolo di buioni non ricordo su quale giornale in cui lui sostanzialmente li insultava questi due colleghi che lascia anche un po' in dubbio dal punto di vista deontologico la denigrazione del collega in tutti gli ordinamenti deontologici compreso quello dei medici è sempre una un'azione eh ritenuta scorretta normalmente dagli organismi disciplinari eh tra le altre cose ho letto che Serravalle giustamente vuole querelare quelli che la che lo hanno proprio offeso pubblicamente e eh sono cominciati appelli perché venisse revocata la nomina di questi due studiosi un polverone privo di qualsiasi giustificazione che però ha fatto sì che eh diciamo la controinformazione o comunque quelli che cercano di capire come stanno le cose se andassero a vedere i curricula degli altri che erano stati nominati ed è venuto fuori che molti di quelli che facevano parte di questo NITAG avevano delle situazioni di conflitto di interessi abbastanza pesanti in termini di rapporti di collaborazione con le con quelle stesse aziende farmaceutiche che producono i vaccini che il NITAG dovrebbe promuovere nonostante che il la le normative che prevedono l'istituzione del NITAG vogliano che si faccia una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il tutto è sfociato secondo me in una pessima figura da parte del Ministero della Salute che alla fine eh ha revocato la tutta la nomina di tutta la commissione e ne nominerà un'altra eh e vediamo che cosa faranno vediamo se torneranno come sarebbe molto opportuno a nominare se non se ravalle bellavite ma qualcuno che ha un'opinione un po' fuori dal coro perché ci sia una discussione all'interno di questo organismo vediamo se nomineranno finalmente dei professionisti che non hanno situazioni di conflitto di interessi e vediamo soprattutto mh come riuscirà il Ministro a giustificare questa cosa. Molti stanno dicendo che sarebbe opportuno che Schillaci si dimettesse, sono totalmente d'accordo perché la la questa storia delle nomine è stata gestita talmente male che soprattutto un Ministro tecnico, Schillaci non fa il politico, fa il professore di medicina a sua volta, farebbe bene a prendere atto di questa situazione e dimettersi sarebbe una scelta degna. Ancora più degno sarebbe stato difendere le nomine perché non credo che la nomina venga fatta così anche se è stata fatta ad agosto però non credo che Schillaci sotto all'ombrellone firmava senza rendersi conto di che cosa firmava. Sapeva esattamente chi sono questi questi professori tanto più che appunto è un tecnico della materia. Se fosse stato un politico messo lì come era Roberto Speranza poteva trincerarsi dietro al fatto che gli avevano suggerito dei professionisti e che non li conosceva e va bene ma invece no perché un professore di medicina li conosceva sì e li conosceva bene quindi a maggior ragione la scelta degna sarebbe quella di una molto opportuna dimissione. Vediamo che cosa succederà. Al netto di tutto ciò il NITAC è un organismo a mio avviso inutile e abbastanza superfluo. È giusto che se ne sia parlato ma di fatto è un'entità che delibera delle raccomandazioni al ministero, ministero che ha già elaborato un piano vaccinale fino al 2026 compreso dove già si prevede queste cose, già si prevede che debba essere vinta lì dell'esitazione, già si prevede che la strategia della salute pubblica italiana è quella di spingere perché si facciano quante più vaccinazioni possibili. Quelli che sono con gli esitanti, chiamiamoli così, sono dipinti come persone ignoranti che non capiscono nulla e che devono essere quindi riportate sulla retta via. Ormai noi abbiamo una visione della scienza che siamo tornati in epoca pre-galileiana direi, cioè la scienza è un complesso di cognizioni dogmatiche che non possono essere messe in dubbio e chiunque le metta in dubbio è un eretico a tutti gli effetti perché non partecipa a questa nuova religione e deve essere quindi silenziato come accadeva con gli eretici. In effetti la vicenda di Serravalle e Bellavite è indicativa di questo, ma questo purtroppo è un malcostume che va avanti ormai da anni. Chiunque esprima un'opinione che è leggermente fuori dalle linee consentite dal discorso pubblico viene immediatamente tacciato di essere un ignorante, un antiscientifico e così via. Questo purtroppo è quello che noi abbiamo imparato a conoscere. Se ci libereremo di schillaci forse non tutto il male viene per nuocere, si può dire, ma la regola in politica è sempre che quello successivo è peggio di quello precedente. Vediamo chi ci daranno come prossimo Ministro della Salute. Effettivamente Alessandro è quello che temo anch'io. Chi verrà dopo perché non ti candidi? Scusami. Non ci vedrei. Innanzitutto io ti ringrazio per questo tempo che ti hai dedicato. Complimenti per questa indagine che hai svolto. Mi auguro che Serravalle e Bellavite si rivolgano a te per difendere i loro interessi. Come ho sempre detto, se io avessi bisogno un avvocato ti chiamerei. Spero di non chiamarti mai, se non per fare l'intervista. Assolutamente. Ringrazio tutti gli ascoltatori per quello che sono stati pazientemente a sentire e ti saluto Alessandro con un grande arrivederci perché secondo me di questo argomento dovremo tornare a parlare magari dopo le vacanze quest'autunno. Grazie infinito Alessandro. Grazie Carlo dell'invito e a presto.